Come il Partito Democratico Provinciale commenta l'esito di questo voto, Civitella e Ortignano che vanno nella vostra direzione, negli altri casi invece ad Anghiaghi la sconfitta e a Monteparchi Sansepolco ballottaggio? Allora, ovviamente c'è soddisfazione per i risultati di Civitella con la riconferma di Cinetta Menchetti e con il ritorno di Pistolesi e Ortignano Raggiolo, due importanti risultati laddove buoni programmi e buoni candidati producono ottimi risultati. C'è amarezza per il risultato di Anghiari dove abbiamo perso al fil di cotone per soli nove voti, rimane amarezza per un progetto di rinnovamento forse un po' troppo scollegato dall'amministrazione uscente e di conseguenza ha penalizzato un po' l'affetto nei confronti di una buona amministrazione come quella di Riccardo Laferra. Gli altri due comuni vanno al ballottaggio, ci aspettavamo di andare al ballottaggio, su Montevarchi il risultato che sta nel percorso che il Partito Democratico ha fatto, con un percorso di anche divisione, di lacerazione a sinistra dopo le primarie anche con l'ex sindaco Grasso, un percorso che mi auguro possa trovare un canale di dialogo in questi 15 giorni perché credo che il voto che ha sostenuto Francesco Manegrazio è sicuramente un voto ampiamente di sinistra che può trovare in Paolo Ricci il candidato ideale per sconfiggere Silvia Chiasai che invece non ha nulla da confondere con Montevarchi essendo una candidatura nata tra Firenze e Siena. Ecco, al ballottaggio temete che si ripeta il caso di Aghezzo? Sono elementi fondamentalmente diversi, innanzitutto perché a Rezzo avevamo un vantaggio molto alto nei confronti di Ghinelli e quello ha prodotto forse anche un rilassamento nella coalizione sosteneva Bracciali. In questo caso sia a Montevarchi e a Sansepolcro invece partiamo come secondi, quindi siamo sfavoriti ai blocchi di partenza. Però con margini di recupero importanti, sono fiducioso soprattutto per quanto riguarda Montevarchi e su Sansepolcro credo che abbiamo degli spazi su cui lavorare perché credo che la lista che sostiene Cornioli che va dagli ultraliberisti di destra agli ultracomunisti di estrema sinistra non può produrre un governo stabile per la città. Su questo non abbiamo puntato molto le nostre energie, credo che nei prossimi 15 giorni Daniela Frullani saprà far capire ai cittadini la reale portata del suo progetto in antitesi a un progetto che non sta in piedi.